Presidente, questa mozione è stata presentata a mesi orsono, agli inizi dello scorso dicembre ed è stata presentata a valle di una interessante commissione lavori pubblici sul ponte dei congressi. In quell'occasione io che sono commissario chiesi al dottor Botta che presenziava alla commissione se Roma Capitolina si stesse attrezzando per implementare le cosiddette la metodologia BIM e la risposta fu diciamo abbastanza negativa nel senso che Roma deve ancora iniziare a fare questo processo. Ma da spiegare cos'è la metodologia BIM per chi non fosse tanto addetto ai lavori. BIM è l'acronimo di Building Modeling Information ed è un approccio importante per la progettazione delle opere pubbliche. A differenza del nome Building che significa edificio in realtà con questo approccio si possono progettare tutte le infrastrutture e valga per tutte il ponte di Genova che è stato progettato e realizzato in un anno è stato appunto progettato con questa metodologia BIM per dire. Quindi è una metodologia molto importante. Vado a spiegarla in poche parole. Con il BIM l'opera da strutturare è un'opera che ha una sua collocazione spaziale tridimensionale ed in più questo modello insiste su un server che può essere condiviso con tutti i vari soggetti che concorrono alla progettazione. In un processo canonico per chi ha detto a questi lavori sa che la progettazione è un processo ahimè sequenziale ovvero intervengono prima i progettisti strutturali, dopo di che intervengono gli architetti che definiscono gli spazi, definiscono i componenti edilizie, poi intervengono gli impiantisti, i meccanici, elettrici e poi intervengono gli altri professionisti, i professionisti della prevenzione incendi per esempio dell'energetica. Quindi è un po' una sequenzialità che allunga i tempi di questa progettazione. Mentre con questa metodologia essendo il modello già a fattor comune di tutti i progettisti il processo progettuale può in armonia realizzarsi con una grande ottimizzazione. Ed inoltre, proprio perché gli oggetti non sono delle rappresentazioni sulla carta, bensì degli enti che hanno una loro consistenza geometrica e spaziale, si possono già in fase di progettazione, anzi lo fa automaticamente la procedura all'applicativo informatico, verificare quelle eventuali interferenze che poi durante i lavori negli appalti, nei cantieri determinano rallentamenti quando non vera e propria variante con tutto ciò che comporta in termini di costi e di tempi. Quindi questo per dire la potenzialità del BIM, ma non finisce qui. Il BIM poi in realtà ha la sua maggior potenza proprio nella fase successiva, sia di realizzazione perché si può già ipotizzare nel tempo come si sta nella realizzazione, come si sta via via sviluppando l'opera, ma anche addirittura pensate in fase di manutenzione perché gli elementi, avendo una loro consistenza, una loro natura con delle caratteristiche, possono avere anche inserite già in fase progettuale le caratteristiche che determinano la vita e quindi è possibile già pianificare e sarà possibile quindi poi gestire adeguatamente la fase successiva di manutenzione, che sappiamo tutti che soprattutto in Italia il problema della manutenzione è un problema serio, spesso trascurato. Quindi detto questo, sull'importanza del BIM siamo tutti d'accordo quindi, ma non solo, c'è anche un obbligo di legge perché nel 2017 in attuazione del decreto del codice degli appalti, il decreto legislativo 50 del 2016, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha adottato il decreto 560 e questo che dice? Dice che è obbligatorio per le stazioni appaltanti implementare queste metodologie e dà una certa sequenzialità. Diciamo che ad oggi la situazione è questa, che già da questo gennaio, quindi gennaio 2021, per tutte le opere che eccedono i 15 milioni di euro in opere complesse è obbligatorio usare questa metodologia. E per dire, negli anni futuri, ad apprescindere dalla complessità dei lavori, dal 2022 sarà obbligatorio per le opere oltre i 5,2 milioni di euro e dal 2023 per le opere oltre il milione di euro. Quindi è anche un obbligo di legge. In più, sempre questo decreto impone che le stazioni appaltanti, quindi che trattano opere così importanti con questi valori, devono anche attuare un processo di formazione di tutti i profili tecnici che sono chiamati ad utilizzare queste procedure. Guardate bene che quando parliamo dei profili tecnici non parliamo semplicemente del progettista finale, è bene che queste cose vengono, quantomeno nella loro architettura generale, vengono conosciute da tutti i profili e anche più alti sempre di natura tecnica. Detto questo, in quel periodo si parlava anche di individuare le schede per i finanziamenti recovery fund. È da questo che è nata l'esigenza di questa mozione. Quindi con la mozione noi chiediamo che in queste richieste di finanziamento nell'ambito dei recovery fund, adeguatamente si prende in considerazione l'implementazione di queste metodologie di lavoro, per quanto riguarda sia le attrezzature, le strumentazioni, quindi l'hardware e il software, sono sistemi di una certa complessità e che comunque si preveda anche un'adeguata formazione e quindi vengano impiegati fondi anche per implementare adeguatamente la formazione di tutti i profili tecnici pertinenti. Io con l'occasione indico già, consegno anche ovviamente il voto favorevole di questa maggioranza. Grazie Presidente.